La nascita, evento centrale della vita di comunità, da sempre accompagnato da ritualità e mistero, è il tema del Festival della Nascita, curato dalla cooperativa Nascere nel Terzo Millennio, che si è tenuto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. L'iniziativa ha sviluppato una riflessione sugli aspetti simbolici della nascita, sul significato dell'accoglienza, sugli aspetti umani ed emozionali che accompagnano l'evento. È importante stimolare l'uditorio, le persone che sono presenti qui con noi, su una riflessione direi emozionale, emotiva, ed è questo che vorremmo recuperare, con i vantaggi della società e delle strutture mediche che esistono e di cui ci avvaliamo e siamo felici di poterci avvalere. Ma accanto a questo c'è tutta la parte dell'evento umano, considerato pochissimo in questi ultimi tempi. Le giovani donne sono quelle che prendono il loro modello, come ho detto, sì, dalla madre e dalla nonna, ma soprattutto dalla società intorno, e quindi anche dai messi media, che veicolano alcuni modelli di donne e di madre. Fra le proposte il lavoro teatrale Matrici, dedicato alla gestazione e al parto, e interventi di Edoardo Boncinelli, Ivan Cavicchi, Antonella Bozzaotra e Monio Vadia. Questa cosa della crescita ipertrofica è una forma di rapina nei confronti della natura, di cui noi non siamo padroni, ma siamo custodi. Noi dobbiamo custodire ciò che ci è stato dato perché dobbiamo trasmettere alle generazioni future. E' con il merito della nascita. La nascita è un bene comune e quindi è una responsabilità di tutti verso tutti. Facciamocene carico.